musica 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 sono alti interpreti Watch Dogs, è un videogioco sono il figlio al prodigo di Harley Quinn e Joker sono Rarity di My Little Pony che è un pony ovviamente io faccio la versione umanizzata del film Equestria Girls sono la versione Adagakashi Adaghe, versione elegante. Interpretando una versione ridisegnata da me di Jack Skeleton di Nightmare Before Christmas, di Tim Burton. Chiamale Guerriere Sailor nella versione scolastica. Lucifer di Angel Sanctuary. E cosplay di Eureka Seven, Ranton di Eureka Seven. Noi siamo Oscar François de Georges, André Grandier e la regina Maria Antonietta da Lady Oscar con la rosa di Versailles. Cosa mi è passione del cosplay? Il fatto di poter interpretare per un giorno magari un personaggio che si ama da sempre, di poter essere nei panni proprio di quel personaggio in tutti i sensi. Il cosplay quello che ci piace più che altro è l'aggraviazione con gli amici, che hanno la stessa passione, quindi ti incontri. Io adoro uscire, creare, frequento un'attedemia di moda, quindi poi da quando ho scoperto il cosplay è stato un motivo in più per mettermi alla prova. E poi adoro gli anime, i cartoni animati in generale, quindi è un modo per aprirmi anche caratterialmente. Facciamo quello che ci piace, ci piace cucire, ci piacciono i cartoni e siamo tra amiche. Quindi questi vestiti li fate voi? Sì, sì. Tranne il mio. Io l'ho comprato. Non sono ancora così brava, però insomma... Ognuno di noi ritrova il suo Peter Pan che è dentro di sé. Penso che sia una fiera bellissima. E personalmente mi ha dato tante, diciamo, tante, come si dice? Dammi la parola. Con le spazioni, no? Grazie! Grazie!